guardai ma vada via il culo te la cucina vado a cucinare quando trovo qualcosa di acceso come cacchio si fa usare l'abilità di pino intanto rubò le carote faccio la guardia tutte le carote e ravanelli tra la 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 allora andiamo su di qua tra lì che cos'è cosa vuole yotum gacciatore o vogliamo